Ciao a tutti ragazzi, qua Biazzerchi Parla, oggi siamo qua in questo nuovo video, dopo di nuovo tempo che non carico video e non ho mantenuto la mia promessa, nonostante io abbia fatto Crypted, comunque sia, non è bastato tutto ciò in effetto. Siamo qui quest'oggi in un nuovo video, oltretutto per spiegarvi alcune cose di Crypted e in più per parlarvi di un po' di news e del perché sono realmente scomparso dal mondo così interno. Allora, volevo incominciare a parlarvi del perché sono scomparso, semplicemente per il motivo, per il semplice motivo, quando ho fatto quel video io ero abbastanza libero, cioè almeno la scuola sembrava leggera, poi di colpo mi hanno sovraccaricato di verifiche e interrogazioni a palla finché adesso non sono riuscito a fare il video perché appunto adesso finalmente ho tempo, quindi riesco a fare il video tranquillamente, quindi adesso cercherò di portarli più frequentemente e niente, state pronti perché spero di davvero portarli. Non so se questo qui lo vedrete dopo il gameplay, che vi lascio qua sotto in descrizione nel caso l'ho fatto, se no lo vedrete prima, non lo so, adesso vedo un po' come organizzarmi. E niente, non ho molto a raccontare, da parte che voglio parlarvi di Crypted, che molti, molti di voi dal vivo mi hanno chiesto cos'è Crypted, perché ho creato Crypted e quando usciranno nuovi episodi di Crypted. Ecco, voglio parlarvi appunto di quest'idea, quest'idea che è uscita, non so, in genere dalla mia testa, che poi ha aiutato dei nick contribuendo alla creazione di questa nuova serie, Crypted, che è come diciamo una specie di webserie, tra virgolette, dove è la storia di noi due, che abbiamo avuto problemi con i nostri canali, è tutto strutturato per essere creato così, cioè i video sono molto corti perché devono essere corti a tutto un motivo che... Non sto qui a spiegarvi, se no vi spoilerò tutto quanto, quindi lo capirete pian piano e dovrete capirlo anche voi, è una specie di enigmista, diciamo, dove siete voi che dovete cercare di interagire allo stesso tempo con noi nella serie per capire che cosa sta succedendo e magari in qualche modo anche aiutare chi non ha capito e noi a risolvere questo grave problema. Comunque sì, Crypted è questa serie che diciamo abbiamo deciso di creare per il semplice motivo che volevamo fare questo video da davvero molto 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 tempo e finalmente abbiamo trovato il tempo. Perché non carichiamo il video? Per il semplice motivo che non ne abbiamo tempo. Cioè almeno io riuscirei ad avere un giorno libero, è più che altro dei nick che lui davvero non ha per niente un giorno libero perché lui è molto occupato dato che fa una scuola dove danno molti più compiti della mia, quindi bisogna un attimo accontentarsi così. Non so se l'inquadratura così va bene, ditevi un attimo se va bene oppure se deve essere tipo più, non so, più così, boh, non so, è uguale. Ragazzi, dato che ho la batteria della Canon scarica, non ho voglia di staccarla e ricominciare tutto quanto a fare un casino, voglio essere molto schiatto con voi. Cercherò di portare i video il più frequentemente possibile e chiedo soprattutto il vostro massimo sostegno per poter permettere tutto questo. Quindi vi voglio il più attivi possibile sul canale perché stiamo creando una vera e propria mina su YouTube che si è vista poche volte e voglio cercare di portare un senso di normalità su YouTube oltre ai soliti video che si vedono tutti i giorni. Quindi niente, cercate di sostenermi, supportatemi il più possibile e io giuro che non vi delvederò neanche Deni. Trasciano questo, alcune news è che arriveranno video su dei gameplay molto blandi che vedrete insieme al pingatore rosso che potete vedere in alcuni dei miei video che ha commentato ogni tanto in modo anonimo. Arriveranno dei video insieme a lui su The Seat, cercatevelo tranquillamente così capite cos'è. Non so, The Seat appunto è il gameplay che forse avete visto o ieri o vedrete domani. Quindi niente, state pronti e godetevi il video. Non ho più news, oltre che ho comprato questo treppiede che è tipo altissimo, infatti è per questo che mi vedete in altezza. Quindi niente, non ho più niente da dire. Volevo solo dirvi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.